Burocrazia e mancanza di personale. Queste le cause principali che frenano la ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma nel 2016. Nel borgo di Falerone, popolato da circa 3.000 persone, la situazione è stagnante da quasi 8 anni. Il 75% delle abitazioni del centro storico è lesionato. Gli edifici sono stati messi in sicurezza nell'attesa dei lavori. La ricostruzione privata, in linea con gli altri comuni del cratere, procede più rapida. Abbiamo dovuto fare una zona rossa e abbiamo dovuto portare i cittadini presso la palestra comunale dove potevano avere pernottamento, collazione, pranzo e cena. Quindi di danni ce ne stanno tantissimi. Noi già abbiamo fatto diversi interventi, altri abbiamo i progetti pronti in corso di verifica e poi procederemo con la gara di appalto. Nella sostanza abbiamo una burocrazia da una parte e abbiamo le scadenze europee dall'altra. Quindi come è possibile portare avanti questi progetti avendo una burocrazia di questo tipo? Proprio a Falerone qualche giorno fa si è svolto un incontro alla presenza del commissario Guido Castelli per fare il punto sulla ricostruzione. Tra le novità l'assunzione di 10 persone in più nella soprintendenza regionale per velocizzare le pratiche. Noi dobbiamo portare avanti tantissime pratiche ma non abbiamo un personale adeguato oppure se abbiamo il personale dopo magari lo prepariamo e dopo un anno, un anno e mezzo lo perdiamo. troviamo difficoltà a trovare le imprese perché adesso con il super bonus, con il sisma troviamo difficoltà a trovare delle imprese per gli appalti pubblici che dobbiamo ultimare entro delle scadenze. A far paura è anche il problema dello spopolamento. Dello spopolamento c'è stato perché qui noi abbiamo potuto portare della via interi famiglie. Nei centri storici ci stanno degli edifici abbandonati che sono stati anche lesionati dal sisma oppure anche degli edifici propriamente abbandonati che nessuno rimetterà a posto. Dateci la possibilità di requisire, prendere in mano questi appartamenti, queste abitazioni poi darle alle giovani coppie a prezzi simbolici.